Con decreto dirigenziale dello scorso 7 marzo, la Regione Campania ha pubblicato il bando per il finanziamento di iniziative rivolte alla valorizzazione delle tradizioni culturali della Campania. La misura è dotata di risorse per 3 milioni e mezzo di euro. Sono ammesse alla selezione esclusivamente i soggetti iscritti nel registro regionale dello spettacolo, che abbiano svolto nel territorio regionale iniziative finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni culturali della Campania negli ultimi due anni, il 2012 ed il 2013. I soggetti regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di legge e tutti coloro che non beneficeranno di altri finanziamenti per il progetto in cantiere. La proposta progettuale potrà essere presentata singolarmente da un operatore dello spettacolo nella qualità di soggetto proponente o come capofila di una TS formata da due o più operatori nel proprio settore. Il soggetto proponente potrà presentare una sola domanda di partecipazione, come proponente singolo o come capofila. Le risorse erogabili possono raggiungere per il teatro 187.500 euro, per la musica 75.000 euro, per la danza 75.000 euro, per il cinema 105.000 euro e per uno spettacolo viaggiante 75.000 euro. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata entro il 16 aprile 2014.